Pirino Bigone ogni anno verifica la situazione del nevaio della Valla Assa e quest'anno cosa avete trovato? Sì, chiamiamolo pure ghiacciaio perché è ghiaccio vivo, ho trovato più o meno le dimensioni dell'anno scorso. L'anno scorso sono salito a metà agosto, qui siamo all'inizio di settembre, più o meno le dimensioni si sono mantenute stabili, anche se sono mancate tutte le nevicate, veramente le enormi nevicate degli anni passati che riempivano tutta la parete nord del Monte Secco, però adesso è rimasto dei bricioli di neve che hanno formato questo bellissimo ghiacciaio, un ambiente particolare, molto selvaggio. Consiglio a tutti da visitare un'oretta di cammino dalla frazione Albaretti, un ambiente spettacolare. Ecco, lo scorso anno era stato in questa zona all'inizio di agosto, quindi c'è anche uno scarto temporale. Sì, uno scarto, però ho guardato le dimensioni dell'anno scorso, guardando quest'anno più o meno le dimensioni sono sempre uguali. Quest'anno si è salvato di più per il fatto che, coperto da detriti, praticamente l'hanno preservato anche dalle piogge che ci sono state in questi giorni. Quindi potremmo immaginare che possa superare anche l'autunno? Sì, visto le condizioni climatiche attuali, penso che senz'altro supera in dimensioni ridotte, però lo supera. È bello da visitare perché c'è un'enorme grotta di ghiaccio, fa l'attenzione a entrarci all'inizio, però ecco è bello da vedere. Poi c'è tutto l'appercolo dell'acqua che scende, tutte queste gocce d'acqua che si scioglie piano piano, però dovrebbe mantenersi per la stagione. E in zona invece, per quanto riguarda anche la flora, non è stato qualcosa di particolare? Sì, quest'anno purtroppo non ho visto la campanola Reineri perché c'è stata probabilmente la tempesta e ha distrutto tutte le fioriture. Difatti non ho trovato fiori per niente, in contempo però ho visto dei kamoshi, una femmina col cucciolo e altri due kamoshi, quattro esemplari molto belli. Non è perso, ci siamo divertiti a fotografarli e a filmarli una bella oretta lì in questo ambiente particolare. Tuttavia hanno notato un problema? Sì, un problema molto grave perché tutte le abetaglie della vallà sono minacciate dal bostrico. Infatti ci sono gli operai che stanno tagliando tutti gli abeti, abeti non dico secolari ma è una bellissima abetaia. E guardando un po' gli abeti tutti secchi o macchie di leopardo probabilmente andranno tagliati tutti perché ormai poi si sta propagando. Hanno già fatto dei lavori anni scorsi ma il bostico ormai si sta propagando. Questo piccolo insetto che è un paio di millimetri purtroppo riesce a distruggere un abete rosso. Invece per quanto riguarda i funghi? Una stagione anche questa un po' anomala per i funghi e crescono a macchia di leopardo. Ho notato che anche qui molti mi chiedono ma adesso c'è la luna nuova, c'è la luna vecchia, c'è la luna piena. La luna non influisce perché mari escono nella zona di Fogarolo, escono nella zona della Valzurio, non escono nella Valcanale. Anche loro crescono in base alle condizioni climatiche giuste. Ieri purtroppo vi ho notato che c'è del vento nel sottobosco e il vento è un nemico principale dei funghi perché piove una settimana, una nottata di vento secca tutto e i funghi non crescono. Però ho notato che quest'anno ci sono molti funghi velenosi mortali, quelli non mancano mai. Cortinario speciosissimo, Amanita falloides, Cortinario rellanus. Perciò fate molta attenzione perché i funghi velenosi quelli ci sono sempre.